Tanto tanto mettono la musica sotto Tutte le piattaforme. Ti do io la brochure dopo. Ci dovevo fare l'intervista, dottor. Dai, no, quella è la di... La parliamo dopo. È buono? Ma che tu? Oh, grazie. Fini? In me qu'è me, oda? Oh, grazie a te. Oh, grazie! e c'è un collega di Palo che ci ha fatto trovare i taralli io sono siciliano ma il pesce che ho mangiato a Pari noi purtroppo con i ritmi chiamavamo non accanto grazie a tutti direttamente su lei 1